Cosa preferisci? Pantaloni o vestitino? Io uscirei i pantaloni. Ovviamente? I leggings neri. E di altri colori? E altri colori no, sono più belli per i femminili. Neri, quindi nera come la Toschiana, vestita da sera, sciariti i capelli, poi balla un po'. Un momento di sprenta e ora continuiamo con il nostro cosa ti piace e cosa non ti piace. Ti piace di più la carne o il pesce? Interessante sta cosa, direi la carne. Perché? Io direi quella carne rossa che è buonissima. Quindi ti colpisce più la carne che il pesce? Sì. Bene, andiamo avanti. Ti piace di più la pizza o l'insalata? Insalata. Davvero? E se ti propongo una pizza con ricotta e pomodori contro l'insalata, chi vince? Io direi la pizza. Ecco, non sapevo. Perché dovete sapere, ragazzi, che la Noemi adora la pizza con... Comodori e ricotta. Beh, diciamo che è buona. Però se magari la ricotta non c'è... Usa la mozzarella? Sì, si metterà sopra la... Muffarellina. Ma cosa c'è scritto sulla tua camicia da notte? Io in mente l'incontrata non riesco a leggerla. Bene, c'è scritto be cool. Be cool. Però andiamo avanti, no? Perdiamoci in... Chiacchiere. Bene, allora, vorrei chiederti una cosa. A te piace di più il computer oppure il tablet? Il computer. E perché ti piace così tanto il computer? Perché il computer si può utilizzare tipo per studiare, per trovare delle ricette. Noemi, lo puoi fare anche con il tablet? Potrei fare anche con il telefono, se punto. Vero. Ti piace più l'oro o l'argento? Diciamo l'argento, perché l'oro sono un po' allergica. Quindi vado sull'argento. Ti piace più il diamante o il rubino? Qui non si sa. Questo mi chiamo il suspense. Ti piace molto di più i gioielli oppure stare libera come una farfalla? Libera. Ti piace avere molti cuscini oppure un cuscino? Non so, dipende a stagione a stagione. Se magari è primavera, allora magari un cuscino si sta. Se è estate, un cuscino. Se invece va adesso autunno e inverno, molti di più di cuscini. E anche molte coperte. Ma tu hai una sorella, un fratello. Ecco, io qui direi che avrei due fratelli. Che è la prima mia sorella, che si chiama Asia. Ma quanti anni ha Asia? Ha nove anni. Bene. E quanto è alta? Centoquaranta. Ma chi è il cento tre? Bene. E quando è nata? Il ventinove dell'undici del duemila e onzi. Qui sicuramente è un po' difficile confondersi. Eh. Ma... Qui ci sta il ventinove e due volte undici. Ecco. Ma ci hai parlato di due fratelli. L'altro è un maschio o una femmina? Adesso parleremo di un altro fratello. Io ovviamente ho un fratello che si chiama Nicolas. Quanti anni ha? Ha dodici anni. Quindi è più grande di tua sorella Asia. Eh sì. Quando è nato? È nato il 28 dell'8 2008. Qui nessuno si può... Sbagliare! Sbagliare. È tutto otto. È sempre tutto otto. Vuoi... Perché magari c'è il ciccio John G2 all'inizio. Tu, Noemi, vuoi fare la rivelazione del telecamereman? Oppure vuoi tenerlo nascosto in sospeso? Qui facciamo la suspense. Ve lo dirò più avanti che sarà il telecamereman. Però devo mostrare una cosa. Questa... È la mano del telecamereman. E ve lo svelerò più avanti. Adesso proprio no. Però tu farai dei video anche quando sei in vacanza? Vedremo. Se riesco a fare qualcosa ve lo faccio vedere. Sempre insieme al telecamereman. Ovviamente insieme in vacanza ci staranno anche i miei genitori. E i miei fratelli. E anche i miei fratelli. Bene, come chiuderai questo video? Ok, io spero che vi è piaciuto. Mettete... Fate commenti. Mettete like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E... Ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo in un prossimo video. Un bacione!